9 maggio affinché egli ti metta al di sopra di tutte le nazioni che ha fatte quanto a gloria rinomanza e splendore deuteronomio 26 19 consacrazione totale prova a immaginare come ti sentiresti onorato se una personalità importante decidesse di visitarti e di trascorrere la notte in casa tua certamente non lasceresti tutto in disordine ma metteresti assolutamente la casa in perfetto ordine inoltre non faresti dormire il tuo ospite nel garage nel ripostiglio o in soffitta bensì offriresti sicuramente la stanza da letto più spaziosa e comoda il tuo obiettivo sarebbe di onorarlo quanto meglio possibile perché la sua presenza ha pagato te ora medita su quanto segue tu hai fatto dichiarare oggi al signore che egli sarà il tuo dio perché tu cammini nelle sue vie e tu obbedisca alla sua voce il signore ti ha fatto oggi dichiarare che sarai un popolo che gli appartiene verso 17 19 se desideri che il signore si usi di te ti onori e ti dimostri il suo favore non puoi assolutamente marginarlo o dividerlo in compartimenti devi impegnarti a soddisfare la sua volontà mettendogli a disposizione il tuo tempo i tuoi talenti i tuoi tesori il tuo corpo la tua mente il tuo spirito il tuo cuore e tutto te stesso dio infatti richiede una totale consacrazione grazie a tutti